L'evoluzione è una legge universale. Evolvendosi sempre più, l'uomo può conoscere i principi e le leggi dell'universo, ma non può rispondere a una domanda fondamentale. Perché è così? Sai, in tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Tu vivi in una favola, Martin. La principessa è il marinaio. Non perdere tempo. Lotta per il socialismo. Il mondo è dunque più forte di me. Finché infatti non mi lascio sopraffare, sono anche io una potenza. Nella mia potenza è temibile finché avrò il potere delle mie parole. Perché chi costruisce prigioni si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Non mi lascio sopraffare, non mi lascio sopraffare, sono anche io una potenza. Grazie a tutti